torna all'appuntamento con lo street food a genova fino a domenica 19 marzo nei giardini di brignole piatti tipici e cucina di strada con gli stand dell'associazione italiana cuochi itineranti portiamo soprattutto prodotti tipici italiani di alta qualità come aici associazione italiana cuochi itineranti cerchiamo di portare una metodologia un po diversa dello street food quindi prodotti comunque selezionati di altissima qualità e soprattutto aspettiamo un grosso pubblico che ci venga a trovare per darci un giudizio se positivo o negativo dalla porchetta di ariccia i salumi toscani dallo gnocco fritto agli arancini siciliani prodotti tipici regionali in trasferta a genova per essere gustati in un divertente viaggio alla scoperta dei sapori della tradizione qual'è il segreto per la cottura ideale aver passione per il proprio lavoro per lavorare le proprie carni come diciamo come se fossero dei figli quindi nel modo migliore trovare sempre una situazione per ogni tipo di problema che non può verificarsi comunque la formula è semplicissima si gira per scegliere il piatto desiderato si ordina e si consuma ad uno dei tanti tavolini presenti tra gli stand o passeggiando alla ricerca di nuove tentazioni per il palato vediamo se sono buono che cos'è questo? arancino a ragù e che cosa c'è dentro? formaggio, piselli e ragù e si frigge? si frigge sì è buonissimo e come si fa a capire quando è buono? è quando lo mangi e che cosa Migli funziona? Grazie a tutti.